Se anche voi giocate spesso a Red Red Online su console PS4 potete contattarmi su uno dei miei social, sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia su PS4 e poter giocare insieme a Red Red Online. Ciao a tutti Orchetti, sono Orcuverde. In questo video vi mostrerò un nuovissimo solo super multiduplicazione glitch su Red Red Online per duplicare oggetti del ruolo collezionista e poi venderli. Prima di iniziare Orchetti vi invito tutti quanti a seguire la playlist dei glitch e money glitch di Red Red Online presente sul mio canale perché sono presenti ancora un sacco di glitch e money glitch funzionanti che potrebbero interessarvi. E possiamo iniziare subito! La prima cosa che dovete fare per eseguire questo money glitch è trovare un oggetto del ruolo collezionista con i cercametalli in un punto qualsiasi della mappa. Dopodiché dovete aprire la mappa e impostare un segnalino vicino all'icona del proprio personaggio così da ricordarvi la posizione dell'oggetto. A questo punto Orchetti dovete scavare e raccogliere l'oggetto e dopo aver raccolto l'oggetto dovete salire sul proprio cavallo e con le cercametalli dovete trovare un altro oggetto in un punto qualsiasi della mappa. Quando avete trovato il secondo oggetto dovete aprire la mappa e impostare un segnalino vicino all'icona del proprio personaggio così da ricordarvi la sua posizione e poi dovete scavare e raccogliere l'oggetto. Una volta raccolto il secondo oggetto dovete ricarvi a una bacheca delle taglie più vicina poi dovete avviare una qualsiasi taglia che non sia la taglia leggendaria. E' molto importante Orchetti potete avviare tutte le taglie tranne le taglie leggendarie altrimenti il glitch non funzionerà e subito dopo aver avviato la taglia velocemente dovete salire sul proprio cavallo e in questo momento dovete continuare a premere ripetitamente il tasto X barra per cavalcare sul proprio cavallo continuando a allontanarvi dalla bacheca delle taglie. Facendo ciò dopo un po' di secondi mentre vi stavate allontanando dalla bacheca delle taglie sul proprio cavallo il gioco caricherà la taglia che avete accettato mostrandovi questa schermata nera e poi teletrasportarvi davanti alla bacheca delle taglie. A questo punto Orchetti che la taglia sarà iniziata dovete aprire il menu di pausa andare su online e trovare un nuovo free rom. Quando sarete esponati in free rom col circa metalli dovete avvicinarvi ad uno dei segnalini che avete impostato prima nella mappa e se tutto sarà funzionando correttamente come bene potete vedere ci sarà ancora l'oggetto. E se c'è ancora quell'oggetto dovete scavare e raccoglierlo. Non sempre sarà lo stesso oggetto che avete trovato prima nella stessa posizione ma varierà. Dopo aver raccolto l'oggetto dovete ricarvi nel secondo punto dove avete impostato il segnalino nella mappa. Come noterete anche in questo punto ci sarà nuovamente l'oggetto che avete raccolto prima. A questo punto dovete scavare e raccoglierlo nuovamente. Poi ricarvi a una bacheca delle taglie, avviare una taglia che non sia una taglia leggendaria. Poi continuare a galoppare sul proprio cavallo allontanandovi sempre di più dalla bacheca delle taglie fino a quando la taglia inizierà. Caricandovi una schermata nera e poi facendovi teletrasportare davanti alla bacheca delle taglie. Poi ricarvi nel menu di pausa andare su online e trovare un nuovo free rom. E quando sarete esponati nel nuovo free rom dovete ricarvi nei punti in cui avete impostato i segnalini nella mappa. Poi raccogliere gli oggetti, ricarvi una bacheca delle taglie e continuare ad eseguire quest'ultimo procedimento. Per continuare a raccogliere all'infinito questi oggetti del ruolo collezionista nella stessa posizione della mappa dove li avete raccolti prima. Potete eseguire questo glitch anche con più oggetti per volta, non per forza due come ho mostrato nel video. Davvero un ottimo glitch che vi permette di guadagnare un sacco di dollari in quanto tutti questi oggetti che raccogliete potete venderli a Madame Nazare. E non solo, perché raccogliendo questi oggetti guadagnerete XP del ruolo collezionista che vi farà aumentare di rango in quel ruolo. Più XP normali che vi permetteranno di aumentare le carte abilità, aumentare il rango del proprio personaggio. E anche aumentare il rango del pass fuori legge che vi ricordo sarà disponibile fino alla mattina di questo martedì, ovvero martedì 19 novembre. E nientorchetti, appena questo glitch non funzionerà più, scriverò subito facciato nel titolo del video per avvisarvi. Prima di concludere il video, vi invito ad entrare nella mia community PS4, Orc Uber The Gamer tra parentesi YT, per trovare altri giocatori con cui giocare e eseguire glitch insieme. Quindi nientorchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete il video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per diventare un orchetto e poi seguitemi sui social. Trovate tutti i link dei miei social, link nella descrizione sotto nei video. E da Orc Uber The Gamer, un prossimo video, bella! Ciao!